Al via la programmazione natalizia Castellabate con una miriade di appuntamenti, già a partire da questo weekend tra mercatini, spettacoli teatrali, animazione e solidarietà. Il calendario approvato con delibera di giunta comunale nella seduta del 4 dicembre viene realizzato in collaborazione con le associazioni che propongono le attività. Dal 5 dicembre al lunedì prossimo 8 dicembre si svolgeranno i mercatini di Natale nel centro storico del Borgo Medievale. L'iniziativa è curata dall'associazione Marcialonga di Castellabate. Artigianato locale, enogastronomia e prodotti tipici saranno i protagonisti di circa 50 stand. Sabato 6 dicembre alle ore 18 cerimonia di inaugurazione del Teatro del Sorriso nella sala Monsignor Farina Castellabate a cura della bottiga teatrale. Questi i primi spettacoli. Il 7-8 dicembre esiterà anche Cearia di Natale, animazione in piazza con decorazione dell'albero e sorprese per i bambini. L'appuntamento è alle ore 14 e 30 domenica 7 a Santa Maria presso la terrazza Caduti del Mare. È lunedì 8 a San Marco in piazza comunale. L'evento è curato dal forum giovanile in collaborazione con l'associazione Vivi San Marco. Il 13 dicembre dalle ore 18 e 30 a Santa Maria shopping al corso con musica, sconti promozionali e gastronomia a cura del gruppo Commercianti Riuniti. Il 18 dicembre alle ore 16 e 30 nella sala Monsignor Farina Castellabate premio di solidarietà a cura dell'assessorato alle politiche sociali. Il 20, il 26 dicembre 3 e 5 gennaio 2015 l'appuntamento è con Natale al Borgo dalle ore 19 e 30 nel centro storico di Castellabate a cura della proloco Castellabate. Il 23 dicembre alle ore 19 in piazza Lucia Santa Maria finale del concorso musicale Castellabate Wave Music Contest a cura del forum giovanile. Il 27 dicembre e il 4 gennaio una notte di Natale nel cuore del Borgo Marinaro di Ogliastro. Il 28 dicembre Saperi e Sapori di un antico Borgo Marinaro dalle ore 19 e 30 a Santa Maria con l'associazione Raffaele Tortora. Il 29 dicembre e il 6 gennaio Natale a Marina dalle ore 19 e 30 a Santa Maria con la proloco Santa Maria. Il 30 dicembre infine la Tombolata Vivente alle ore 18 e 30 in piazza comunale a San Marco a cura dell'associazione Vivi San Marco.